ci ritroviamo a fare questo contenuto nel bel mezzo di un europeo che in realtà è appena cominciato perché siamo appena alla seconda partita ma se c'è una cosa che perlomeno io ho capito e poi non so se tu converrai con me perché ricordo quelle che sono state le tue parole nel post partita in cui sicuramente sei più equilibrato io sono molto più passionale mi lascio trasportare dagli eventi che siano positivi o negativi non ci riesco ragazzi è più forte di me e quindi adesso ne riparliamo in maniera secondo me anche un po' più approfondita cercherò di farlo a mente un po' più fredda però vi anticipo che ragazzi non stravolgerò minimamente è difficile digerire una partita del genere questo è poco masivo è quello che non riesco a fargli passare ciao ragazzi ben ritrovati qui non solo ritorniamo sul discorso Spagna Italia sul predominio dal punto di vista tattico dal punto di vista senza predominio dal punto di vista della personalità perché poi Spalletti ovviamente ognuno fa le sue analisi anche giusto così dice no non è stata una questione di testa ma ragazzi ho visto veramente secondi dopo secondi una squadra che andava sempre più sotto terra secondo me anche la testa ha fatto la differenza poi ribadisco ognuno ovviamente da la sua interpretazione interpreta in base a quello che vede sicuramente lui vede meglio di noi questo è poco ma ma sicuro però siamo qui per esprimere carità per esprimere la nostra e rinnoviamo ovviamente come si dice il nostro rispetto nei confronti dei Spalletti noi da difusi della Roma ce l'abbiamo avuto per due volte lo abbiamo apprezzato in tantissime salse e la partita singola sicuramente la possono sbagliare tutti seppur io continuo a ribadire c'è modo in modo però lasciate mi piace per supportare altri contenuti calcistici se volete la live reaction seguiteci e attivate le notifiche resterete sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio questo non è l'unico lì è uscito o uscirà il pangellone sfogo e ci abbiamo pure un canale extra calcio li trovate in descrizione come sempre compariranno qui durante il video io ci abbiamo davanti la situazione del girone sì che non è manco così disperato ovviamente perché se vai a guardare quindi non considerare i 90 minuti d'Italia-Spagna se tu vai a vedere la classifica in questo modo ovviamente la Spagna è prima e se non ho capito male così dovrebbe rimanere a prescindere dai risultati delle altre no la Spagna è prima non è che è passata è prima è passata da prima è passata da prima a prescindere quindi l'ultima partita gliene frega un cazzo esatto e l'Italia gli basta un pareggio contro la Croazia per passare da seconda quindi non serve neanche andare a pensare a passaggi con migliori terzi eccetera se l'Italia almeno pareggia con la Croazia passa la seconda e fine discorso se tu però ne riparleremo anche di questo però se tu perdi con la Croazia e guardando sta brutta prestazione non è una cosa poi così impossibile non lo può e clamorosamente l'Albania vince con la Spagna a cui non gliene frega più niente cioè entrano in gioco poi altre dinamiche di classifica arrivi ultimo assolutamente se l'Albania vince c'è la via de mezzo e la Croazia te batte tu vai a fondo a picco c'è la via de mezzo in cui tu puoi arrivare terzo? certo se la Spagna batte l'Albania o comunque l'Albania non vince e la Croazia te batte in quel caso tu arrivi terzo e poi dipenderà là dalle situazioni degli altri gironi perché delle migliori terze due delle migliori terze dei due gironi le peggiori non passeranno e lì su sei gironi due non ne passano ne riparleremo lì in una situazione sicuramente dedicata una cosa un po' più delicata la Croazia e via dicendo esattamente però io il ragionamento che vi faccio e qui ritorno negli equilibri tra virgolette di quello che ho già espresso nel post partita ragazzi io dopo che ho visto una prestazione del genere io non vedo prospettiva questa nazionale no secondo me invece una partita troppo brutta per essere vera perché comunque con l'Albania qualcosa l'hai dimostrata e non può essere questa l'Italia tu sei risposto da solo faccio tutto il rispetto ma eh ok però non hai dato segnali così brutti contro l'Albania mi esprimo mi esprimo in una maniera migliore perché probabilmente magari mi sono espresso male e non avrete capito neanche voi perché da nazionale che ha vinto l'europeo ovviamente che non puoi fare sto ragionamento però va bene no però hai vinto l'europeo io proprio il paradosso che non è paradosso il fatto che tu hai vinto un europeo il precedente e poi mi fai da campione d'Europa in carica una prestazione del genere non mi dà prospettive per il futuro perché dico hai preso una mazzata tra capo e collo hai capito di essere inferiore sicuramente a una squadra come la Spagna e soprattutto anche le altre squadre tu hai le altre squadre un conto è che tu sta partita per dire la pareggi con la Spagna no però le altre squadre te guardano con occhi diversi ma sti cazzi anzi io so contento che mi guardano con altri occhi perché almeno mi sottovalutano se proprio ti posso dire io so contento che mi guardano con altri occhi dici dai guarda che ridicoli guarda che figura di merda che hanno fatto contro la Spagna se li becco io sai che cavoccia che gli faccio e invece è questo che deve succedere e invece se non ti sottovalutano ma c'è la consapevolezza che sei una squadra debole che basta anche a noi non ci possono sottovalutare se poco poco passi quando arriva la fase di eliminazione diretta l'Italia è sempre l'Italia pure se ci arrivi a spicchi a tocchi a fettine con bucio di culo quello che ti pare l'Italia fa sempre paura nessuna squadra si permetterà mai di sottovalutare l'Italia e di ah che bello abbiamo beccato l'Italia poi passiamo noi ma chi lo dice ma io non volevo dire quello però il fatto che togli cioè le altre squadre ti vedono con occhi diversi non che te vogliano sottovalutare però ma dici che me sottovalutano ma qual è il problema dici che te sottovalutano fatto sta che fatto sta che secondo me noi ad oggi abbiamo capito di non essere la nazionale di tre anni fa cioè questa è una ma è una batosta pesante che tu prendi ma c'erano dubbi sul fatto che questa nazionale non sia la stessa di tre anni fa io per questo sono deluso perché io volevo volevo un test probante perché per me io ve lo dico già da anni in realtà anche quando abbiamo vinto l'europeo noi siamo noi siamo capaci e lo dice la storia del calcio di dimostrare tutto in positivo e il contrario di tutto in negativo cioè l'uni penso che non sia mai successa una cosa del genere una squadra che per due qualificazioni mondiali consecutive non va a un mondiale che ti vince un europeo cioè questo è il paradosso di una squadra tu dici è proprio per quello che io non capisco che cazzo di squadra siamo se siamo veramente una squadra forte se siamo una squadra che vive dei momenti vive dei folate vive dei momenti positivi e può fare qualsiasi cosa ma non siamo la Spagna questo questo è non c'è manco bisogno di ribadirlo cioè te lo dimostra la storia di gente io prima di questa partita però mi aspettavo una partita più equilibrata ma quello ce l'aspettavamo non mi aspettavo appunto vedi che ti rispoglie solo sì però questo mismatch non esisteva per me sì ma tu te focalizzi troppo su una partita che non conta un cazzo perché diciamocelo chiaramente a me che la Spagna mi fa una capoccia così nei 90 minuti di un girone dove poi magari ci ribeccamo più avanti che possa essere in quarto dei finali o una semifinale e poi passo io non me ne frega ma dove sta scritto che magari non li ribecchi in passi tu ma perché non può succedere dove sta scritto fa io ho visto una differenza abissale e non mi sticazzi della differenza a me adesso della differenza contro una squadra che è capace che non ribecco manco più perché magari si fa butta fuori da un'altra non mi interessa adesso a me l'unica cosa che mi interessa è solo guardare alla prossima con la Croazia della quale so solo un pelino preoccupato perché la Croazia è sempre la Croazia io mi sto cagando addosso poi ne parleremo poi ne parleremo ma l'unica cosa sulla quale posso recriminare dalla quale può scaturire da sta sconfitta è che la Croazia magari come dici tu ti dice alla prossima che ci giochi contro ma forse non so così imbattibili forse ce la possiamo fare forse ci abbiamo ancora qualche speranza a me è questa l'unica cosa che mi lascia Spagna e Italia solo su questo perché poi del resto può essere positivo e negativo può essere una partita sbagliata può essere tutto quello che ti pare che non ci ha capito niente che ti hanno messo le palle in testa però la Croazia questo te voglio dire non ti sottovaluterà perché c'è un punto no ma forse ci crede proprio cioè non solo ci crede proprio esatto dice approfittiamone ma non è un è solo questo oddio che scarsi andiamogli a rompere il culo no hanno dimostrato debbolezza sto ragionamento però famoglielo male ma famoglielo con la consapevolezza con l'attenzione e con la concentrazione sto ragionamento però te lo fa la Croazia perché la Croazia sta messa peggio di te capisci dove voglio arrivare con il ragionamento mio quello che dici tu anzi scusami quello che dicevo io sul fatto che gli altri ti possono sottovalutare ma ovviamente andando avanti se riesci a passare sto girone lo può fare la Germania lo può fare l'Inghilterra lo può fare la Francia io capisco pure quello che dici te che se passi poi in parte se resetta tutto potresti dimenticare esatto no una volta che passi cambi reggito se cambia automaticamente perché non passi per caso per me no cioè è una batosta sì perché ti hanno fatto una testa così ma è una partita secca è una partita che ti può non creare danno cioè un conto è che tu esci così cioè io capisco di più così positivo non riesco ad essere no aspetta io non sono positivo perché non c'è nulla di positivo sto cercando solamente di resettare di far finta che non sia successo nulla e va a fare motivatore per l'Italia che magari di arrivare con la Croazia con la capoccia giusta di dire che ci si può ancora far perché niente è perduto non è successo niente è questo solo che vorrei far capire perché un conto mi dici arriva all'ottavia di finale becchi la Spagna succede sta partita è una catastrofe la è la distruzione di un di quel poco che è riuscito a creare vincendo l'europeo il bello di questo il bello veramente è una catastrofe vera il bello di questo sport e il bello secondo me pure di questo canale è che abbiamo comunque pareri abbastanza discordanti in merito sono due punti di vista in parte diametralmente opposti poi in alcune situazioni magari facendo giri differenti però poi arriviamo sempre alla stessa conclusione certo la mia situazione è io non vedo prospettiva cioè ma è sbagliato non è sbagliato fa più è umano no la prospettiva ci deve sempre stare cioè io vedo un minimo de consapevolezza io vedo un conto dice la prima partita la vinci con la Croazia il discorso è questo invece che gioca con l'Albania la prima la vinci con la Croazia fa inverto inverti capito vinci con la Croazia per quanto poi puoi aver fatto schifo magari la Croazia però vinci con la Croazia e poi prendi questa batata avrei fatto un ragionamento come il tuo no io invece sarei sta no io sarei sta no avrei fatto un ragionamento come il tuo e avrei detto quello che stavi per dire te che l'incidente di percorso perché con la Croazia è così comunque la nazionale forte l'hai battuta la nazionale invece l'Italia c'ha bisogno di beccare una nazionale forte deve stare con la capoccia giusta perché se no ti succede come con la Macedonia e come contro la Scozia contro la Svezia scusate non contro la Scozia ti serve la partita giusta non devi affrontare una squadra tra virgolette da sotto da poter sottovalutare perché se tu arrivavi con l'Albania come dici tu in quella prospettiva l'Italia era sicuro ma no che pareggiava era sicuro che perdeva l'Albania ci avrebbe battuto 100% questo però ecco con la ma perché ce lo insegna la nostra storia però ecco lo vedi che rientriamo nei meriti del mio pessimismo perché da cosa nasce gli dico per fortuna paradossalmente c'è stata la Croazia però è giustificabile quello che io dico ma certo perché c'è dietro una storia è giustificabile per quanto poi ovviamente ci sono stati pure bellissimi momenti io da italiani ma ci volevo lamentare c'è pessimismo c'è quattro mondiali due europei uno dice oh c'è sta gente c'è stanno nazionali che veramente probabilmente in tutto l'arco della loro vita no volevo far casi un po' più è dici io no voglio parlare di altre squadre perché l'Inghilterra comunque una squadra forte è probabile che nei prossimi anni qualcosa vincerà ma sono 40 anni che diciamo che l'Inghilterra una squadra forte non vince mai io te parlo di chi ti fa una nazionale che magari in 70-80 anni che uno campa non vede un cazzo cioè non vede capito però dici sono abituale cioè noi perlomeno da quel punto di vista però ecco troppi up e down cioè troppi momenti non riesco a comprendere sta cosa no vabbè ma quello non lo capisce non riesco a comprendere sta cosa ragazzi non lo capisce nessuno non lo capendo non sei solo tu che non capisci questo tipo di situazione però non dovrebbe succedere ad una nazionale così forte cioè se tu vai a prendere nazionale per nazionale tu però fai il discorso storico una situazione però così paradossale abbiamo solo noi abbiamo solo noi non ce ne stanno altre cioè se tu prendi la Germania va benissimo se tu prendi che cazzo non so ora vi dico Brasile mi allargo a livello mondiale Brasile Argentina ci hanno avuto i loro momenti no però perlomeno parlo per il calcio che ho seguito io esatto perché se tu vedi nazionali come Argentina e Brasile le critiche che fanno a quelle nazionali sono cento volte peggiori di quelle che facciamo noi alla nostra nazionale quando le cose vanno male ognuno nella propria realtà poi lo vediamo nonificato più secondo me è anche molto peggio dove magari sono state situazioni pure migliori della nostra per cui nel complesso diciamo che una situazione come quella che stiamo attraversando noi non ce l'ha nessuno dove passi come dici tu a pentà un europeo mancato mondiale e mo la situazione con la Spagna bruttissima partita eccetera però bisogna pure guardare che periodo storico recente è questo perché questo ci dimostra palesemente non bisogna attaccarci a quello che siamo stati e bisogna rimboccarci semplicemente le maniche e soprattutto pensare che è stato un bruttissimo incidente nel percorso e che soprattutto si può ancora dire la nostra basta fare quello che sappiamo fare perché lo sappiamo fare non siamo brocchi non siamo la squadra che ha perso in quel modo contro la Spagna però però non si può sicuramente rigiocare in quel modo perché ovviamente in quel modo prendi la qualificazione e la butti nel cesso ma la paura che possa succedere uguale alla Spagna cioè che fai una partita uguale è tangibile perché ovviamente passeranno solo quattro giorni giocherai lunedì contro la Croazia per cui è molto più facile che tu riesca a fare una figura quasi identica a quella che hai fatto contro la Spagna piuttosto che migliorare e di molto perché ci vorrà molto più di questo questo è il paradosso che siamo capaci pure di fare una partita completamente opposta io adesso penso in negativo penso che faremo una prestazione di merda e magari poi ritiri fuori il problema però ecco non mi preoccupa la prossima partita mi preoccupa se passi quando beccherai ovviamente pensa a passare ovviamente pensa a passare ci ripenserai se passi è capace pure che becchi una squadra tra virgolette come era quello che cascano tutti davanti breboli ecco ma tu è possibile devi sperare sempre a queste cose no però è per farti capire noi non spero in questo però è per farti capire no però è la storia della nostra vita però è per farti capire come può cambiare in un percorso così breve come un europeo come può cambiare da una partita all'altra tutto il discorso che fai ma l'europeo di tre anni fa a me non mi pare che avevamo fatto una figuraccia del genere ai gironi per quanto poi è finita solo una a zero ma non l'avevamo mai fatta una figuraccia del genere ai gironi avevi fatto nove punti su nove appunto se non mi sbaglio e poi avanti alla fine l'hai vinto o chi hai fatto figuraccia no con nessuno capite quello che quello europeo sei stato palesemente più forte lo sei stato dall'inizio ma non eri la squadra più forte non lo eri ma lo sei stato da subito è questa la cosa è quello lo step capito che mi fa pensare dico cazzo ma c'erano altri precedenti di euro poi arrivi da un'altra delusione di un mancato mondiale è diverso è la cosa che mi fa rosicare e torniamo sempre al stesso discorso che poi si ricollega alla Roma quando parliamo di Roma che fa secondi piazzamenti in classifica poi arriva a Napoli da nulla e una volta a Napoli e una volta a Bologna e te se rimettono se il discorso finimo domani si però te se rimettono sempre davanti cioè la Spagna la Spagna alla fine ragazzi la Spagna sono vent'anni che te sta avanti però cioè non mi dica cosa ma che cazzo mi frega del ranking ma guarda la realtà ma la Spagna da tre anni fa non te sta avanti manco quel cazzo ma che cazzo se l'hai buttata al culo tu guarda la Spagna dal 2008 cioè che tu eri campione del mondo in carica guarda che t'ha fatto nell'europeo del 2008 si si che vince la Spagna vince il campione del mondo del 2010 e te rifà una cavoccia così in finale del 2012 ma non hai compreso il mio ragionamento e poi chiediamo il contenuto che tu nel precedente europeo te ci hai rimesso davanti e loro te ritirano fuori i giovani te ritirano fuori e tu non lo fai ecco perché la Spagna molto te fa una testa così sulla partita secca ma non è vero che non lo fai lo fai c'hai buoni che c'è messo Fabio la differenza fa bastoni calafiori cioè tanti giovinotti ma lo stesso ricambio generazionale che ci hai avuto con Barella all'epoca non basta te lo sei spiegato quello che fa la Spagna è 10 volte migliore del tuo e questa è la mia paura per il futuro non solo per questo europeo che noi tiriamo fuori buoni calciatori perché non si può dire che abbiamo calciatori del merito buoni calciatori li diamo fuori gli altri tirano fuori i campioni lo scopriamo oggi lo scopriamo oggi 21 giugno non credo ripensando all'europeo dei tre anni fa uno ce crede uno ce spera quello era l'exploit dopo aver avuto tante sempre vinciamo le cose casuali quello è stato un exploit poi non è che dice in quella squadra chi c'avevi di giovanissimo come ti ha messo in campo la Spagna nella partita che hai appena giocato chi c'avevi di giovanissimo ma non mi ricordo nessuno forse Barella ma parliamo comunque di tre anni fa Barella ragazzi è 97 c'ha 27 anni ce n'aveva già 24 tre anni fa non era giovanissimo giovanissimi noi non ce ne abbiamo mai avuti non è nella nostra storia la Spagna invece lo fa te mette in campo Yamala che c'ha 16 anni Nico Williams che è 2002 se non mi ricordo male e quindi c'ha malapena 20 anni Gavi Pedri Gavi va bene ce sta Pedri è un altro pischello certo questi hanno un'altra mentalità rispetto a noi è storicamente così la Spagna è diversa da noi non possiamo far paragone sotto sto punto di vista perlomeno alla luce di tutto questo di tutto e il contrario di tutto voi siete più equilibrati riuscite a stare nel mezzo o vi schierate da una parte o da un'altra fate ciò sapere ragazzi mi raccomando tanto ragazzi la prossima partita è al dior ne riparleremo ciao